dal sogno, dalle illusioni. Andiamo al segno del toro, una luna fantastica, ancora una giornata molto fortunata, possibilità di ottenere grandi successi sul lavoro, la possibilità di ottenere magari anche un apprezzamento dalle persone che lavorano con voi o dai vostri superiori, dal vostro capo o addirittura per chi ha la ricerca di una sistemazione lavorativa e professionale. Questa potrebbe essere la giornata ideale per spedire ad esempio un curriculum, per farsi avanti o per ricevere una proposta di lavoro. Amore sempre un po' conflittuale ma sotto questo Marte però trionfa la passione. Andiamo al segno dei gemelli, ancora una giornata piuttosto complicata, è in famiglia che c'è bisogno.